Sono pari a 422 milioni di euro i danni segnalati dalle imprese a distanza di sei mesi dal grollo del Ponte Morandi dello scorso 14 agosto. Il tragico evento ha paralizzato la città di Genova e tagliato in due la regione, isolando il porto, uno dei principali scali europei e il primo a livello italiano nel settore container. Maggiormente colpito dunque il settore del commercio, con 121 milioni di danni, seguito dalle industrie e dai trasporti. Gli effetti del grollo si sono riverberati ben oltre le precentro del Polcevera. Nella zona rossa arancione della città si concentrano infatti il 37,6% dei danni economici, mentre nel restante territorio comunale il 41%, ai quali si aggiungono l'11,7 milioni degli altri comuni della provincia. È quanto emerge dal rapporto dell'osservatorio statistico dei consulenti del lavoro, gli effetti del grollo del Ponte Morandi su economia, occupazione e integrazione sociale. Presentato a Genova in occasione del congresso regionale dei consulenti del lavoro Liguri. Pesanti le rigadute anche sull'occupazione. In provincia di Genova i datori di lavoro nel 2018 hanno effettuato 94.974 assunzioni, 1.900 in meno rispetto al 2017. Il crollo del Ponte ha comportato una brusca contrazione della domanda di lavoro, pari al 18,9% se si tiene conto dei soli mesi che vanno da settembre a dicembre e del 22,5% se si considera anche il mese di agosto.